Buongiorno a tutti amiche e amici di Rossini TV, siamo oggi in studio con tre ospiti interessantissime da conoscere perché l'argomento di cui parleremo è la violenza di genere. La violenza di genere significa proprio la violenza che viene perpetrata spesso in ambito familiare sulle donne con tutte le conseguenze che ci sono. Considerate che questa giornata è stata istituita nel 1999 con una risoluzione ONU per ricordare un evento successo negli anni 60 in cui le tre sorelle Mirabal furono uccise in maniera molto violenta nella Repubblica Dominicana per il loro impegno politico. Noi in studio abbiamo tre ospiti, tre ospiti importanti per parlare di questo argomento. Gabriela Guerra che è la coordinatrice del centro antiviolenza parla con noi, Stella Grassetti coordinatrice della casa emergenza per donne vittime di violenza e progetto armadio e Mara Volnitschi operatrice del centro antiviolenza e responsabile dei percorsi formativi nelle scuole. Gabriela Guerra, quindi sono state tante le situazioni che noi purtroppo vediamo anche quotidianamente, io ho dei dati che sono drammatici che parlano che nel 2020 già sono avvenuti in Italia 60 femminicidi, l'ultimo dei quali due settimane fa a Brescia, quindi credo che sia una situazione della quale dover parlare assolutamente. Assolutamente sì, purtroppo i dati sono allarmanti e non c'è nessuna negli ultimi anni, purtroppo non sono aumentati i casi di femminicidio ma nemmeno sono diminuiti, quindi abbiamo purtroppo un numero che permane costante. Io come diceva lei sono la coordinatrice del centro antiviolenza Parla con noi, coordino il servizio insieme alla dottoressa Maura Gaudenzi, siamo 18 a lavorare presso il centro antiviolenza che è un servizio pubblico e in quanto pubblico significa anche gratuito, è un servizio dell'ambito territoriale 1, del comune di Pesaro ed è in gestione alla cooperativa Labirinto di cui noi facciamo parte e collaboriamo insieme a Percorso Donna che è un'associazione che mette a disposizione all'interno del centro antiviolenza delle volontarie. Abbiamo aperto nell'aprile del 2009 e ad oggi, da allora, abbiamo incontrato 1292 donne, abbiamo preso in carico, quindi il numero è alto, è un numero che è andato in crescendo di anno in anno. 100 donne all'anno. Esattamente, più o meno in verità appunto c'è stato un aumento abbastanza progressivo, questo non perché siano aumentati i casi di violenza di genere ma perché sempre di più il servizio si è fatto conoscere, è stato conosciuto dalle donne e quindi c'è stato un accesso sempre maggiore delle donne al centro antiviolenza e quindi è un numero positivo per noi perché significa che sempre più persone hanno scelto di prendere quel telefono e fare quella prima telefonata. In effetti inizia tutto così. Cosa succede e come si accede al centro antiviolenza? Al centro antiviolenza solitamente si accede attraverso una telefonata che una donna o un'amica di quella donna o una sorella o un collega di quella donna fanno al centro antiviolenza. Una telefonata è un ben preciso numero se non sbaglio. Abbiamo il numero diretto che è 0721 63 9014 ma abbiamo anche il numero verde nazionale che è 1522, è un numero gratuito per cui poi è un centralino a Roma centrale e poi viene dislocato a seconda del luogo di residenza nei vari centri antiviolenza. Per legge dal 2009 in Italia esiste almeno un centro antiviolenza per provincia per cui il ministero finanzia l'attività nelle marche quindi ce ne sono 5 nello specifico. Parte la telefonata. Sono le operatrici dell'accoglienza a prendere questa telefonata. Le operatrici dell'accoglienza sono persone che hanno una specifica formazione sulla violenza di genere e il contatto telefonico cerca come sempre di trasformarsi poi in un appuntamento di persona. sappiamo comunque è importante incontrarsi. La donna arriva al centro e ci sono una serie di colloqui che le operatrici dell'accoglienza portano avanti per sostenere la donna in quella che sarà la sua scelta. Non c'è qualcun altro che sceglie per lei. Ci sono donne che accompagniamo fuori dalla violenza, fuori dalla storia di violenza. Ci sono donne che in quel momento fanno ancora fatica, devono capire e superare la paura che questo comporta e in quel caso permaniamo con la donna dentro la situazione di violenza. Sarà comunque una situazione più protetta, quella donna non sarà più sola e sarà più consapevole di quello che accade e anche più capace di vedere i segnali di allarme. Questo lo dico perché le donne devono sapere che venendo al centro antiviolenza non significa per forza arrivare ad una denuncia o per forza scegliere di uscirne. Rispettiamo i tempi di tutte le persone che si rivolgono a noi perché siano loro a fare il passo giusto nel momento in cui si sentono di farlo. Noi seguiamo a sostegno ma sono loro a scegliere. A proposito, volevo chiedere una cosa. Si è tanto parlato in situazioni in questo periodo particolare di Covid che sono diminuite le denunce o le richieste proprio di intervento. Ma è un dato sul quale effettivamente riflettere in questo modo? È vero o non è vero? Perché sapete il lockdown, la convivenza forzata dentro le case, si è detto che queste violenze domestiche magari erano addirittura aumentate senza che si sapesse, è una cosa reale oppure no? Dunque, i dati ci raccontano che al 1522, che è il numero verde nazionale, dicevo le richieste di aiuto sono raddoppiate, siamo arrivati ad un più 119%, questo a livello nazionale. Cosa è successo da noi al nostro centro antiviolenza? Purtroppo il primo marzo, come sappiamo, è arrivato il lockdown. Il centro antiviolenza però non ha mai chiuso chiaramente perché era esattamente quello il momento in cui invece bisognava esserci, quindi non abbiamo mai chiuso. Un'operatrice è sempre stata presente al centro, tutte le altre operatrici, attraverso dei cellulari aziendali, hanno continuato a contattare sia le donne che avevamo già in carico, sia le donne nuove che avrebbero voluto accedere. Chiaramente però in quei primi tre mesi c'è stato un calo. Facendo una comparazione teniamo presente che nel marzo, aprile, maggio del 2019 avevamo avuto 38 nuovi accessi, nel marzo, aprile, maggio del 2020 abbiamo avuto 22 nuovi accessi, quindi è chiaro che c'è stato in quel momento lì un calo drastico. Però poi noi dal primo giugno abbiamo riaperto in presenza gli appuntamenti e c'è stato poi un'escalation di aumento invece di accessi. Teniamo conto che nell'ultimo mese noi abbiamo avuto accessi di 4-5 donne nuove ogni settimana. In totale in questo momento abbiamo in carico 48 persone, 48 donne e volendo portare il dato del 2020, dal primo gennaio ad oggi abbiamo seguito 106 persone, 106 donne. Quindi ripeto, è vero che c'è stato in quel momento lì a proposito del Covid, del periodo del Covid, un calo, ma poi dopo a seguire invece c'è stato un notevole incremento degli accessi. Sì, peraltro accessi, io credo che per accessi si intenda soprattutto anche poi quello che avviene poi in realtà con la casa d'emergenza vera e propria e quindi è a Stella Grassetti che volevo chiedere esattamente cosa succede dopo, cioè nel momento in cui effettivamente c'è bisogno di intervenire in maniera concreta. Certo, casa emergenza è una struttura dedicata alla protezione in emergenza delle donne vittime di violenza che possono essere sole o con i figli minori. Casa emergenza è stata aperta nel 2014 grazie al progetto cooperazione finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità. Conclusi su questo progetto nel 2015 è stata comunque portata avanti l'attività grazie agli ambiti regionali, ai comuni e alla Regione Marche. Le donne quando sono in una situazione che non possono rientrare in casa perché sono a rischio di vita, sia quindi casa emergenza e per incolumità sia fisica che psichica, possono scegliere liberamente, anche qui è importante liberamente, di entrare in questa struttura. I soggetti invianti sono le forze dell'ordine, i centri antiviolenza, i servizi sociali del comune o del consultorio, gli ospedali e il pronto soccorso. Quindi attivano la casa emergenza, anche quando non hanno un luogo, perché ovviamente se hanno magari una rete amicale o parentale dove comunque devono essere in sicurezza e possono arrecarsi in quel luogo è tanto meglio, perché comunque entrare in una struttura c'è tutta una parte di fatica emotiva, soprattutto per i bambini, per i minori che vengono tolti dal loro ambiente familiare, dalla scuola, dalle amicizie. Però nel momento in cui non hanno un luogo sicuro dove andare, devono sapere che comunque hanno un altro luogo dove vengono protette. Poi dopo la struttura attiva ovviamente i servizi sociali competenti, quindi del comune di residenza, che con gli assistenti sociali o del comune e o del consultorio fanno un progetto di mantenimento della protezione. Questo lo fanno con la donna, nel senso che la donna anche qui deve essere libera di scegliere consapevole del percorso che vuole fare per uscire dalla violenza. E anche qui, come al centro antiviolenza, non è necessario fare la denuncia. Questo è molto importante, perché molte donne pensano che se non denuncio non c'è nessuno che mi aiuta e invece non è così. Esatto. E poi mi pare che ci sia anche un progetto denominato Progetto Armadio che entra anche lui proprio nella questione in maniera anche lui molto concreta. Perché sapete, è molto importante parlare di concretezza, parlare di cosa si fa veramente e quali sono gli strumenti per poter agire, per potersi, virgolette, difendere. Sì, il Progetto Armadio è un progetto nuovo, la cooperativa Sociale Labirinto ha partecipato a questo bando che ha vinto grazie al fondo di beneficenza Intesa San Paolo. e prevede due macroazioni, la violenza assistita e il lavoro con maltrattanti. Io sono la coordinatrice della violenza assistita e si farà un lavoro che prevede anche qui due azioni. Una parte formativa e quindi ci sarà tutta una formazione per gli operatori che lavoreranno nel servizio, per gli operatori che lavorano nel centro antiviolenza, in caso di rifugio, in caso di emergenza. Verrà fatto una formazione al coordinamento pedagogico territoriale, quindi tutti gli insegnanti, per cercare di capire quali sono i segnali e come poi, quindi come cogliere i segnali sui bambini e come poi poterli aiutare. Ci sarà un tavolo operativo delle assistenze sociali dei comuni e del consultorio. Infine una sensibilizzazione per le società sportive, ma anche tutte quelle associazioni che lavorano con i minori, perché essere a contatto con il minore, saper cogliere i segni della violenza assistita, è molto importante. Sembra quasi che tu voglia passare la parola a Mara Volnitsky, che proprio di questo si occupa, perché lei è responsabile appunto dei percorsi formativi nelle scuole. Dicevamo prima che forse quel momento, il momento in cui già nell'infanzia, da bambini, si approccia all'altro sesso, si comincia a capire quello che vuol dire differenza di genere, è un momento decisivo nel quale intervenire e forse un approccio culturale di questo tipo favorirebbe tanto una diminuzione della violenza di genere. Assolutamente, perché, allora, intanto tu hai detto parliamo di cose concrete. Secondo me la cosa più concreta e più efficace contro la violenza è avere informazione, prima di tutto. E poi un altro fattore molto importante è che questa è l'espressione di un modello culturale, ok? Cioè non è solo se tu hai visto a casa episodi di violenza, no? Siamo, viviamo in una cultura che promuove stereotipi di genere che non hanno un rispetto o un'accoglienza delle differenze che possiamo avere, no? Invece impostano dei modelli rigidi sul come dobbiamo essere come genere. Allora, ovviamente il lavoro che noi facciamo al centro antiviolenza è un lavoro prezioso, ma è un lavoro che arriva troppo tardi, perché arriva quando già la violenza si è installata in una relazione. Invece dobbiamo imparare a riconoscere e a reagire ai semi della violenza, perché anche quando parliamo di violenza di genere siamo abituati a pensare, no? Ha chiaramente le manifestazioni più eclattanti come sono la violenza fisica. Però dobbiamo imparare a riconoscere i semi della violenza, che sono quelle cose piccole. Infatti nelle scuole mi piace, perché quando andiamo a parlare su di questo con i ragazzi, noi abbiamo organizzato questo progetto formativo per tutte le scuole secondarie di secondo grado della provincia. Siamo andati in 13 istituti, abbiamo incontrato circa 300 allievi, ed è stato bellissimo perché, per esempio, una delle cose è che quando parliamo con i ragazzi, tutti riconoscono sin da subito che magari la violenza fisica non è giusta. Però quando entri a parlare più nel dettaglio, cominciamo a parlare di quelle manifestazioni più sottili, no? Quelle che entrano nel campo di dipende. Cioè, ti faccio un esempio. Per esempio, sono tutti d'accordo sul fatto che magari quando sei in relazione vuoi avere l'attenzione del tuo ragazzo, la tua ragazza, no? Del partner, che in questo la gelosia è un po' desiderata. Però, parliamo di questo, qual è il limite? Fin dove è salutare, per dire? Fin dove ci piace? E quando diventa un elemento magari di controllo, possesso, angoscia, limitazione della libertà? Ecco, infatti, volevo intervenire su questo, facendo una domanda a Gabriela. Il riconoscere, ha detto benissimo Mara, riconoscere, riconoscere l'atteggiamento che potrebbe portare a violenza. E si dice tante volte, ma cambierà. No, in fondo, cambierà, cambierà. Esiste la possibilità, effettivamente, anche di cambiare per la persona violenta che magari lo fa, è una sorta di patologia. Quindi, esiste la possibilità di potersi, virgolette, redimersi? Magari anche attraverso un percorso? La collega Stella Grassetti nominava prima il progetto Armadio. Il progetto Armadio consta di due parti. Uno sulla violenza assistita, come ci ha raccontato, uno proprio messo a disposizione dei maltrattanti. Quindi, stiamo attivando, è proprio partita in questi giorni, anche in questo caso, la formazione. Partirà a gennaio-febbraio un'azione a sostegno degli uomini maltrattanti. Perché noi comunque sia, allora, a volte si pensa che la violenza sia connaturata alla natura dell'uomo. Non è questo. Noi non siamo, la neurofisiologia, chiaramente, non ci costringe ad essere violenti. Possiamo sentire rabbia, e questo è un sentimento comune e normale. Trasformare questa rabbia in violenza è un passaggio consapevole. Quindi, la violenza è una scelta. Però noi pensiamo davvero che una possibilità di cambiamento ci sia e vada data a tutti. E quindi esistono in Italia, ma ancora non esistevano nel nostro territorio, nella nostra regione, l'esperienza più importante è su Ancona, dove il punto voce esiste da quattro anni. Ed è, e succederà anche qua a Pesaro, tra gennaio e febbraio, l'attivazione di un gruppo di sostegno a uomini maltrattanti, che attraverso l'aiuto di due psicoterapeuti dovranno fare un percorso di consapevolezza e di comprensione e di scelta. Perché, come dicevo, la violenza è una scelta. E l'avere un filtro che evita che la rabbia si trasformi in violenza è molto importante. In America questo lavoro si fa da tantissimo tempo. E gli studi ci dicono che tra un gruppo di uomini che ha fatto un percorso e un gruppo di uomini che non ha fatto un percorso, c'è una differenza del 5% di recidiva. Il dato potrebbe non essere particolarmente incoraggiante, ma se io lo traduco in numeri, e vorrei farlo per renderlo più concreto, appunto, tangibile, facciamo conto che nelle Marche è la popolazione femminile di 800.000 donne. Nel nostro territorio, nella nostra provincia, sono 17.000. consideriamo che la statistica dice che una donna su tre, nell'arco della sua vita, subirà o ha subito una qualche forma di violenza. È una statistica, pensa, che la prima volta è stata effettivamente definita nel 2013, proprio con uno studio del 2013 che dice che il 36% delle donne ha subito un qualche tipo di violenza. Esattamente. E quindi cosa significa? Significa che se a Pesaro ci sono 50.400 donne, significa che un terzo, 17.000 di queste donne, hanno subito nella loro vita una qualche forma di violenza. Cos'è il 5%? Il 5% sono 840 donne, a cui noi, lavorando con gli uomini, renderemo la vita migliore. Quindi quel 5% è molto importante. E ci arriviamo lavorando il centro antiviolenza con le donne, il progetto armadio lavorando con gli uomini, e sempre il progetto armadio, sostenendo, perché è fondamentale, i bambini e i ragazzi. Perché la violenza assistita, ecco, un dato istat molto importante, ci dice che dal 2009 al 2014, i casi di violenza assistita sono esattamente 427.000 minori. Quindi direi che la donna, l'uomo e i minori vanno considerati e sostenuti tutti. Una battuta al volo con Mara. Senti, ma un consiglio. Cosa si potrebbe fare effettivamente perché i bambini, sin da piccoli, capiscano come comportarsi nei confronti dell'altro sesso? Allora, il concetto chiave sono gli stereotipi di genere. Dobbiamo tutti contrastare, cercare di abbattere questi stereotipi che sono rigidi. E mi piace pensare che non è solo nel confronto della donna, ok? Perché, per esempio, quando andiamo a parlare a scuola con i ragazzi e ci possono anche gli uomini parlare, per esempio, della difficoltà che hanno per esprimere qualche sentimento o dimostrare qualche vulnerabilità o debolezza, perché lo stereotipo non lo permette, abbiamo un campo nel quale non possiamo essere chi siamo veramente, no? E questo poi obbliga i ragazzi e le ragazze a comportarsi in un modo che non è giusto con chi siamo, no? Quanto meno le porta, forse proprio le porta in maniera naturale, diremmo innaturale, perché poi in realtà è naturale. Inconsapevole, perché questo è un fatto che noi cerchiamo di lavorare con i ragazzi, no? Aiutarli a prendere una, a crescere la posizione, come si chiama, critica, no? Sul come mi comporto, perché questi stereotipi di cui siamo bombardati costantemente fanno sì che non ci rendiamo neanche conto di quello che facciamo, no? Giusto, la parola consapevolezza credo che sia fondamentale. E voglio dirti una cosa ultima che è stata bellissima nelle scuole, che quando abbiamo fatto questo progetto e abbiamo parlato con loro sulle loro storie, perché è fondamentale, uno non può imporre che cosa è bello, che cosa no, invece discutiamo con loro. È stato bellissimo che si è creato in diverse classi, che gli stessi ragazzi parlassero con i loro compagni, no? Di voler raccontare un'esperienza magari intima, una difficoltà, una preoccupazione e sentire anche non il giudizio, ma l'accompagnamento e l'accoglienza del gruppo. E secondo me questi sono i semi che poi portano, aprono altre possibilità. Sì, infatti volevo chiudere con Stella, con la parola consapevolezza, ma ancora questa parola, ancora più bella, che è stata detta adesso, accoglienza. Perché credo che proprio sia questa la finalità, no? Proprio del centro dove le donne poi possono effettivamente, in qualche modo, aspirare a una sorta di rinascita e a ricominciare a vivere. Certo, con una propria autonomia e indipendenza, che è fondamentale. E questo è fondamentale anche nel progetto Armadio sulla violenza assistita. Sta riacganciandomi al discorso di Mara, perché la violenza assistita ha delle conseguenze molto gravi sullo sviluppo evolutivo del bambino. Lavorare, aiutare ad elaborare questi trauma, sia ai bambini che all'adolescente, è fondamentale, ma anche importante raggiungere una consapevolezza in questi bambini anche per spezzare un po' questa catena, no? I dati ci dicono che il bambino che ha subito la violenza assistita dentro casa sarà il maschio il futuro maltrattante e la femmina la futura vittima. Quindi avere la possibilità, con l'apertura anche grazie al progetto Armadio, anche qui di un servizio dove verranno fatti laboratori per bambini, gruppi di parole, colloquio individuale con gli adolescenti, ma anche sostegno alle mamme, potrà aiutare a 360 gradi, aiutare questi bambini a elaborare il trauma che hanno vissuto, ma soprattutto a prendere una consapevolezza su quanto la violenza possa essere distruttiva. Gabriela, il progetto Oggi Sono Io, sempre per parlare di concretezza e per parlare di qualcosa che si fa veramente in maniera pratica per provare a risolvere il problema. Sì, il progetto Sono Io è un progetto che si innesta all'interno del centro antiviolenza, è un progetto che la cooperativa Labirinto e insieme a tutti gli altri centri antiviolenza e le case rifugio della regione Marche ha vinto attraverso un bando del Ministero delle Pari Opportunità ed è partito nel 2019, perché una donna, facciamo conto che il 37% delle donne che accogliamo al centro antiviolenza di Pesaro, questo è il dato dell'ultimo anno del 2019, il 37% delle donne aveva una situazione lavorativa precaria, saltuaria, era disoccupata in cerca di lavoro oppure aveva un lavoro in nero. Quindi al di là di tutte le fatiche che può richiedere uscire da una situazione di violenza, bisogna effettivamente avere anche una autonomia economica e quindi una possibilità di lavoro. Oggi Sono Io metto a disposizione tutto questo. Cosa significa? Significa che in un primo momento l'operatrice addetta, la referente è Cristino Bolini e Valentina Corinti, hanno costituito un gruppo di aziende che hanno sensibilizzato e che si sono rese disponibili ad accogliere donne vittime di violenza attraverso un tirocinio, per cui per un periodo di tempo, grazie ad un tirocinio pagato, pagato dal Ministero appunto, le donne sono state inserite in queste aziende che si sono rese disponibili. In alcuni casi, e questo da parte nostra con grande soddisfazione, poi i tirocini si saranno trasformati in assunzioni, il che significa che a quella donna è stata data la possibilità reale di avere un'autonomia economica, la violenza economica anche, le tipologie di violenza sono tante, ma la violenza economica che significa la dipendenza totale economica o il dover fare la spesa riportando poi esattamente lo scontrino di quanto si è speso e il resto che viene controllato sistematicamente è una violenza molto grave quella economica. Il dare un lavoro rende molto concreta la possibilità di uscire dalla violenza e quindi questo è un progetto che è in piedi tuttora dentro il centro antiviolenza e che è assolutamente indispensabile. Prima di andare in onda, adesso siamo in conclusione, io ho fatto una battuta dicendo che molto spesso anche il cinema si è occupato di questo argomento. Devo dire che l'espressione di Gabriele era stata un po' dubbiosa come per dire ecco l'ennesimo stereotipo o comunque poteva anche sembrare in effetti che diventa anche quello un genere di film, quello legato alla violenza sulle donne, eccetera. Beh, io volevo chiudere con un consiglio cinematografico, come ho detto anche prima. Consiglio ai nostri telespettatori e telespettatrici, ma anche alle nostre amiche che sono state qui con noi oggi a Rossini TV e che tutte le marche hanno potuto vedere in questo dibattito interessantissimo su un argomento così importante, un film che si intitola Qualcosa di Travolgente. È un film degli anni Ottanta, consiglio a tutti di andarla a vedere, anche a voi, perché veramente spiega esattamente cosa succede quando l'uomo perde il controllo e la donna diventa vittima. Io ringrazio... Ne posso dare un altro anch'io di consigli cinematografici? Assolutamente. Ti do i miei occhi, è un film datato, ma anche quello che sa raccontare molto bene tutto quello che può succedere. Benissimo, quindi vedete abbiamo anche trasformato questa chiacchierata in una situazione utile per passare magari del tempo in maniera importante, seguendo, guardando dei film che non sono banali. Grazie ancora a Gabriela, Stella e Mara per la loro partecipazione. Il 25, quindi è la giornata mondiale della violenza di genere, ricordiamocene sempre tutti perché è troppo importante non dimenticare queste cose. Un saluto a tutti. Grazie. 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 Grazie.